L'allarme è suonato attorno alle 4 di questa notte. I ladri stavano forzando la porta d'ingresso della filiale di banca intesa di Pieve al Toppo. Ancora un ride notturno nell'aretino, nel mirino di una banda, adesso, dopo le aziende di Preziosi, un istituto bancario. I malviventi, dopo aver scassenato la porta, si sono introdotti all'interno dei locali in cerca di soldi, ma sono stati costretti ad allontanarsi a mani vuote, messi in fuga dal sistema di allarme. Dai primi riscontri effettuati, assieme al personale della banca, sembra infatti non manchi nulla. Alle spalle, però, si sono lasciati ingenti danni, dalla porta d'ingresso forzata ai tentativi di esportare la cassaforte, sino ad una telecamera di video e sorveglianza sradicata. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno dato avvio alle indagini. Al vaglio degli investigatori, anche le immagini delle telecamere presenti nella banca, per cercare di risalire ai responsabili del tentato furto. Solamente qualche giorno fa una banda di malviventi aveva provato ad entrare sempre nella notte in una ditta orafa di via Ramelli, ma anche in quel caso qualcosa era andato storto e i ladri erano fuggiti a mani vuote.